Giada Benassi, Social Media Manager Junior per quanto riguarda il polo digitale la nostra telecamera va a inquadrare sopra proprio di Giada una foto con la scritta sfocature, quando le colture si ammalgano e diventano qualcosa di nuovo questa Giada è una delle tue foto preferite e anche uno dei momenti proprio preferiti per te perché sono tutte e tue foto, quasi tutte e tue foto in questa manifestazione che rientra nel circuito off di fotografia europea ci sono le tue foto, ci sono quelle di Francesca Soli che trattano i giochi del tricolore del 2018 e ci sono anche quelle di Laura Fattori innanzitutto emozionata per vedere le tue foto esposte tantissimo, soprattutto dopo una lavorata vedere comunque le foto esposte è veramente un'emozione unica soprattutto riviverle dopo un lungo periodo perché comunque siamo andati in spedizione a novembre quindi rivederle adesso in circuito off e gareggiare con circuito off con alcune delle nostre foto fatte in Sudafrica è veramente un'emozione unica e sfocature è una delle mie preferite perché eravamo dentro la library Soncini con la Bruna Soncini, quindi moglie di Giuseppe Soncini è stata un'emozione unica perché siamo stati accolti da un coro meraviglioso di piccoli bambini sudafricani che avevano veramente un'emozione negli occhi che era indescrivibile soprattutto i valori che ci hanno dato personalmente li ho colti, ho cercato di portarli avanti anche esponendo le nostre foto qui al Polo Digitale Parliamo già anche dei momenti che avete vissuto e di tutto quello che stanno raccontando queste foto perché abbiamo parlato, ci hai raccontato di un momento in particolare ma c'è stato tanto altro in quei giorni ad ottobre Assolutamente, abbiamo vissuto tre giorni straordinari all'insegna dello sport e nei campi ovviamente quello che avevano ci siamo abituati a loro, abbiamo giocato, scherzato abbiamo donato le nostre divise che il Polo Digitale ha creato e mi sono piaciuti veramente tantissimo è stato un vero onore aver avuto la possibilità di inoltrarmi immedesimarmi e scattare dei piccoli momenti insieme a loro e dei momenti che abbiamo vissuto insieme che abbiamo condiviso non solo lato sportivo ma anche nelle visite abbiamo avuto tante visite nei musei abbiamo vissuto, come vi dicevo prima, i bambini è stata insomma una bellissima esperienza che raccontare con le foto non è assolutamente scontato e ne è semplice perché comunque la spedizione è stata molto veloce molto repentina quindi stare dietro a tutti soprattutto al team di Reggio Emilia 2022 che erano subito molto attivi fin dalle 5 mattino è stato veramente bello comunque in ogni caso una grande soddisfazione come vi dicevo sempre prima aver portato tutto qua grazie a tutti grazie a tutti